Grazie Presidente, molto brevemente, scusandomi ovviamente di non aver potuto fare il nostro dovere in commissione, ma insomma un gruppo piccolo come il nostro, avendo concomitanza di gruppi elettorali e di statuto, spesso insieme era difficile dividersi per poterle presentare in tutte e due le commissioni. Comunque chi ha potuto seguire la presentazione della legge sullo sport in quinta commissione sa appunto che si parla di un principio soprattutto, un principio che è contenuto già nella carta etica dello sport, all'articolo 2, dove è stata inserita questa dizione, tutti hanno diritto di fare sport per stare bene, semplicissima, quindi non ha una bandiera politica o d'altro, ma insomma è un concetto che l'assessore all'occa ha inteso inserire nella carta etica dello sport per non rimettere in mano allo statuto. Visto che siamo a rimettere in mano allo statuto, noi suggeriamo di inserirlo all'articolo 4,1, dove c'è un elenco di lettere dove più o meno si riconosce un elenco di principi e c'era sfuggito, io ero uno di coloro che l'aveva votato questo statuto nella passata legislatura e probabilmente ci era sfuggito un riferimento allo sport, quindi io chiederei appunto di, con questa proposta di legge statutaria, di coprire quel buco, passatemi il termine che avevamo fatto con lo statuto precedente, inserendo proprio la stessa dizione della carta etica, così come l'ha voluta la giunta, che sarebbe questo, cioè inserire la lettera K che dice il diritto di fare sport per stare bene. Grazie, allora ora procederemo alla discussione, se qualcuno vuole intervenire naturalmente prima